A un anno dal lancio di ChatGPT, il tema dell'intelligenza artificiale continua ad infiammare il dibattito nell'opinione pubblica e nei bordi delle imprese. L'approdo dell'intelligenza artificiale è stato visto in questo periodo come una vera e propria rivoluzione. Queste alcune delle evidenze dell'ultima ricerca di Deloitte sull'intelligenza artificiale in Italia, presentate in anteprima nel corso dell'Innovation Summit, svoltosi al Maxi di Roma. Ne abbiamo parlato con Tom Davenport, professore distinto all'MIT e al Bemson College. Di solito non parlo di rivoluzione ma di evoluzione, ma ci sono alcune tecnologie come l'AI generativa che sono potenzialmente rivoluzionari. La maggior parte delle organizzazioni però non le ha ancora implementate in modo produttivo, le stanno ancora sperimentando. Per questo motivo la considero per lo più una tecnologia evolutiva perché si muove abbastanza velocemente come appunto le tecnologie evolutive. È infine intervenuta la presidente del CNR Maria Chiara Carrozza sull'importanza del ruolo delle istituzioni nella rivoluzione data dai sistemi di AI. Io penso che sia pronta, dobbiamo aiutarla a essere pronta e quindi è compito di tutte le istituzioni pubbliche come quella che presiedo in questo momento cercare di aiutare il nostro paese ad essere pronto per questa rivoluzione. Un evento importante alla presenza di diverse figure istituzionali, il report completo di Deloitte verrà presentato poi a gennaio 2024.